Siamo nella nostra cantina dove vengono lavorate le uve di nostra produzione che sono uve bio e quindi anche la cantina è certificata bio. Noi produciamo circa 30 mila bottiglie al momento e pensiamo di arrivare a 50 mila perché abbiamo impiantato altri ettari di vigneto. I vini che produciamo sono il bianco che è il nostro calanchi, il damusa che è un vino rosè e poi tre rossi di cui quello di punta si chiama ranghia. La ranghia ha una lavorazione particolare perché oltre alla selezione delle uva pressature soffice viene solo invecchiato in acciaio e affinato in bottiglia. Una parte quindi di questa produzione viene messa anche in barrique che si chiama Heraklion ed è quindi un vino barricato molto buono pure questo. Infine facciamo il katoi, il katoi abbiamo dato il nome del katoio che in greco vuol dire il basso della casa, più o meno la cantina, in uso nel nostro comune, specie il centro storico di Palizzi dove ogni casa appunto è il katoio. C'è tutta una tradizione del vino in questo paese, di fatto è il vino del contadino, il vino che si produceva. Abbiamo cercato di dare quel tipo di gusto e di profumi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.